Buongiorno, benvenuti a questa rassegna stampa di oggi, 3 gennaio. Vediamo quali sono i temi fondamentali della giornata. Non ci crederete voi, ma il tema fondamentale della giornata è Gianluigi Paragone. Perché Gianluigi Paragone è uno dei senatori, dei 12 senatori che nella legislatura se ne sono andati via dal Movimento 5 Stelle, ma la sua uscita dal Movimento 5 Stelle, secondo i giornali di inizio anno, che secondo me hanno poche notizie da dare, beh, insomma, la sua uscita potrebbe compromettere il Movimento, potrebbe compromettere addirittura il Governo. In realtà c'è un trittico di articoli che vi consiglio di leggere sulla questione di Gianluigi Paragone, quello di Sallusti, di Feltri e del Feltrino, che è il figlio di Feltri, che sono molto caustici nei confronti di Gianluigi Paragone, perché lo conoscono bene, lo conoscono perché è stato un loro giornalista, ci hanno avuto a che fare, insomma forse il più caustico di tutti è quello di Sallusti, più che caustico, forse il più caustico è quello di Feltrino, perché è scritto in maniera divina, racconta tutto l'idea di Paragone, prima leghista, poi forzitalista, poi nominato in Rai, insomma lo prende un po' in giro sulla sua coerenza. E in realtà però il punto fondamentale e caratteriale è quello colto da Sallusti, che dice Paragone fa così, ad esca, incanta, incassa e poi si mette a far casino se non ottiene quello che ancora vuole. Dice Di Maio avrebbe dovuto fare una cosa semplicissima, avrebbe dovuto nominarlo subito ministro o presidente della Commissione Banca e si sarebbe risolto il problema, ma ovviamente la questione di Paragone non può diventare la questione del governo. Mario Aiello oggi sul Messaggero dice c'è una questione del Movimento 5 Stelle, oggi i titoli dei giornali sono ipotesi, scissione, Movimento 5 Stelle, questo è il Corriere della Sera, oppure guerre cinque stellari su Repubblica, oppure dai cinque stelle e cinque partiti, insomma tutti concentrati sui cinque stelle. Il punto fondamentale che coglie Mario Aiello sul Messaggero è che la vera scissione che può far male non è quella di Paragone, che è uno dei senatori, anche se importante e conosciuto, che potrebbe mollare il Movimento 5 Stelle, ma è quella di Fioramonti, l'ex ministro, perché potrebbe molto far male al governo del Movimento 5 Stelle l'idea che ci sia un Movimento 5 Stelle che faccia critica Movimento 5 Stelle da sinistra, ecco quello potrebbe dare molto noia secondo Aiello. Vi segnalo inoltre che la questione di Paragone assume un grande peso superiore a quello che si sarebbe previsto con la mancanza di un solo senatore in più rispetto a quelli che già se ne sono andati via, perché ieri su Facebook Di Battista, che sta partendo per l'Iran per un paio di mesi di reportage in Iran, insomma Di Battista dice che è il più grillino dei grillini, è proprio Paragone. Insomma quindi la dicotomia come qualcuno oggi nota tra Di Maio e Di Battista, quelli sì due leader storici del Movimento 5 Stelle, beh diventa clamorosa. Nel frattempo non vanno meglio le questioni i sindaci del Movimento 5 Stelle, l'Appendino perde un altro consigliere e perché lo perde? Perde anche lei, insomma zona Fioramonti, zona sinistra, cioè la vera scissione non è zona destra Paragone e zona sinistra che potrebbe far male al Movimento 5 Stelle, questo si vede anche con l'Appendino che perde quella consigliera che è la contraria al 5G e quindi insomma all'innovazione che avrebbe distrutto i nostri cervelli. Insomma in questo quadro ovviamente Conte non sta molto sereno come direbbe qualcun altro. Seconda questione di giornata, un po' mi ha ingannato il titolo del Corriere della Sera, è trattativa segreta su autostrade, balle, non c'è nessuna trattativa segreta. Quello che poi ho ricostruito leggendo il Sole 24 ore è che il Ministero dei Trasporti, oggi non più guidato da Toninelli ma dalla più moderata De Micheli, del Partito Democratico, ha finito il suo dossier sui 3.000 chilometri gestiti dall'autostrada per l'Italia, cioè del Benetton e sullo stato delle manutenzioni. Questo dossier verrà presentato probabilmente al vertice di governo del 7 gennaio e a Conte per vedere come comportarsi. Nel frattempo il Corriere della Sera fa questo titolo shock, poi siamo soltanto noi giornali del centro-destra a essere shock, trattativa segreta su autostrada, io vado a vedere qual è questa trattativa segreta, in sostanza non c'è nessuna trattativa segreta, c'è il fatto che con mille proroghe gli indennizi potrebbero scendere nei confronti di autostrade da 23 miliardi a 8 o 6 miliardi, insomma ballano 2 miliardi quindi pensate un po' voi e che comunque autostrade hanno fatto sapere che non solo danno 600 milioni per rifare il Ponte Morandi e ci mancherebbe, non solo danno 800 milioni ai cittadini liguri per le perdite che hanno subito e ci mancherebbe, ma pare che diano anche 700 milioni al governo. Se la trattativa segreta è questa, cioè pagare una cambiata di 700 milioni per tenersi la concessione, insomma forse l'avrebbero un po' dovuto esplicitare meglio all'interno del pezzo del Corriere della Sera. La cosa più importante di oggi l'ha scritta Vito Gamberale, ex amministratore legato proprio delle autostrade per l'Italia, uomo che poi insomma è andato in rotta di collisione con l'autostrade per l'Italia e che dice ragazzi attenzione, attenzione a togliere le concessioni e a revocarle, non a rimodularle con processi di piazza per uccidere uno, dice che sarebbe Benetton che non è neanche inquisito, si distruggono tre che sono totalmente innocenti, cioè gli azionisti di minoranza. Il pezzo di Vito Gamberale non fa una piega ed è la posizione secondo me di un liberale oggi, attenzione perché se noi pensiamo di fare questi processi di piazza, togliere le concessioni, le revoche alle autostrade per la loro incapacità di gestire o di manutenere secondo delle ipotesi piuttosto politiche o anche tecniche senza rendersi conto di tutte le conseguenze di questa roba qua, facciamo una follia. E Vito Gamberale ricorda quel caso incredibile che nessuno di noi ricorda di Tavia cadde l'aereo, fu tolta la concessione alla famiglia, mi sembra privata, non mi ricordo il nome, ce lo ricorda Gamberale, se non che dopo dieci anni, vent'anni fu previsto un rimborso di 100 milioni nei confronti di quell'azienda perché non c'era nessun problema di manutenzione da parte di quella famiglia. Insomma, l'altra cosa che dice Gamberale, attenzione perché se c'è una responsabilità autostrade non mettiamo in secondo piano la responsabilità del controllore che avrebbe dovuto controllare come funziona la concessione. Insomma, pezzo di Gamberale oggi molto ma molto interessante. Altri due o tre temi ve li segnalo, l'Italia perde aerei, dice il Corriere della Sera, cioè nove aerei meno, quindi la lenta declino dell'Italia non è derivante soltanto dalla cattiva gestione che oggi secondo me non c'è affatto, ma dal fatto che se non prendiamo la decisione su quella compagnia siamo morti, piano piano finiscono il leasing, finiscono gli aerei, si fanno meno tratte, insomma la morte lenta di una compagnia aerea. Ma la morte lenta oggi viene raccontata secondo me in maniera straordinaria da un fatto che ci ricorda il fatto quotidiano, scusate il gioco di parole. Il commissario appena nominato, che ha sostituito gli altri tre commissari da questo governo di cambiamento, probabilmente la sua nomina verrà annullata. Nel frattempo l'Italia dovrebbe avere 400 milioni di ricavo dall'America, dovrebbe perdere degli A321, dovrebbe cercare le sue strategie, eccetera. Nel frattempo noi nominiamo un commissario con criteri che sono sbagliati e che quindi verrà probabilmente il TAR lo annullerà. Lo spiega il fatto quotidiano, ma lo spiega anche oggi molto chiaramente un pezzo del sole 24 ore. Il motivo è semplice, perché Di Maio, quando era il ministro dello sviluppo economico nel luglio del 2018, aveva fatto una bella legge di quella da titoloni. Adesso i nuovi commissari verranno fatti attraverso una commissione che valuterà il curriculum di cinque persone e poi verranno estratti a sorte e poi non potranno avere molti plurincarichi. Tutte cazzate, perché questi ultimi commissari nominati dal successore di Di Maio, cioè Patonelli, non c'è stato un concorso, non c'è stata una commissione, non c'è stata un'elezione sorte, hanno plurincarichi, compreso questo dell'Alitalia e quindi il TAR proprio ieri ha detto che non era valida la nomina commissario del commissario di condotte. Con lo stesso criterio non sarà valido la nomina di commissario di Alitalia. Complimenti, cioè si fa la norma, onestà, 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 poi quando stai nella merda non sai che cosa fare e fai come facevano gli altri. Un commissario che aveva altri dieci incarichi, senza nessuna sorteggia, tutte quelle cose per cui tutti quanti erano plaudenti e quindi noi con questa genialata dell'Italia, onestà, onestà, vi spieghiamo come funziona, ci rendiamo le cose ancora più complicate. Dal punto di vista politico è straordinaria questa sorpresa delle Sardine, permettetemelo di dire che i giornali non trattano se non un pezzullo del Corriere della Sera che lo tratta diciamo a un passant e solo per pubblicizzare le loro nuove manifestazioni di Bologna, ma il punto fondamentale è che le Sardine già litigano a Pistoia, non si capisce per quale motivo che la prossima tappa dice, ci informa l'informato Corriere della Sera, la manifestazione di domani a Pistoia non è un evento ufficiale delle Sardine e il motivo per il quale si sono bisticciati, divergenze di vedute, non sono ancora nate e già stanno facendo come il Movimento 5 Stelle, ovviamente la cosa vale per tutti i partiti, oggi è fantastica la questione della convergenza tra Carfagna e Polverini, questi due grandi pensatori liberali che hanno capito che Berlusconi è troppo sovranista e che secondo il pezzo di, chi è che lo dice questo pezzo non me lo ricordo, ma mi sembra su Repubblica, Summit dei ribelli di Forza Italia per sostenere il governo, ci sarebbero contatti con Franceschini e sarebbero un ponte per il governo secondo il Corriere della Sera, Carfagna, Polverini, pensa un po' tu che sorreggono questo governo. E poi questa cosa la devi leggere in concomitanza, cara Carfagna e cara Polverini, con un pezzo di Serra su Repubblica che dice contro il Cavaliere che ieri ha fatto un'intervista a Repubblica dicendo io continuo a mantenere il centrodestra e renderò potabile Salvini, beh insomma, sapete cosa dice Serra? Serra il Cavaliere si è ritrovato, ha sdoganato, è stato travolto, il Cavaliere è stato divorato dalla bestia sovranista, la destra italiana sta facendo una figura miserabile, questo ce lo dice Serra, quello che odiava tutti questi, quello che il cui giornale ha questa destra che non è sovranista, cioè la Carfagna e la Polverini, le detestava, raccontava che erano le ballette, quelle che facevano le dandini, ve lo ricordate? Adesso siccome non sono più con Salvini, così come ieri erano con Berlusconi, adesso vanno bene, è il solito imprimatur che la sinistra vuol dare alla destra, perché se la vuole scegliere da lei la destra, quando una destra è vincente fa sempre schifo, quando era di Berlusconi era orrenda e la Carfagna da Berlusconi e Fini e da Berlusconi e tutti quelli che stavano con Berlusconi facevano cagare, quando mollano Berlusconi o Salvini sono immediatamente intelligenti, basta con questa sinistra dei miei coglioni ZTL che deve definire qual è la destra che funziona e questi di destra che ci cadono, prima Fini, poi adesso la Carfagna, sono esattamente, come possiamo dire, gli strumenti per questa sinistra, per poter andare nei salotti di questa sinistra e essere considerati accettabili? Io me ne fotterei se fosse in voi, come se ne è sempre fottuto il cavaliere. Prepara la sua difesa sulla nave Gregoretti, oggi su tutti i giornali Salvini dicendo che anche Conte il governo lo salvava, lo sapeva, scusatemi, ultima questione grande di politica internazionale, ovviamente nonostante la visita di Di Maio che avrebbe dovuto salvare il mondo come ci spiegava Repubblica in Libia, quello che sta succedendo è che i turchi porteranno 5.000 soldati, 5.000 soldati a difesa di Serraji che è il nostro protetto, insomma siamo riusciti a combinare in Libia un casino mostruoso, l'Europa comunque come sempre, toc toc, van der Leyen, eri tu quella che hai fatto l'intervista l'altro giorno, l'Europa conterà, cazzo, sull'unica cosa che dovrebbe contare l'Europa, stanno lì a farsi le pippe, arriva Erdogan e manda 5.000 soldati a Tripoli. Io dico, invece di fare i fenomeni e invece di fare il Green New Cuts al pact della minchia, pensate che l'unica cosa che dovete fare è cercare di risolvere o comunque immaginare una soluzione per la Libia, ci ha pensato il vostro amichetto liberale, si fa per dire Erdogan. Direi che per oggi è tutto, un grande saluto a tutti quanti voi, noi ci vediamo sul sito nicolaporro.it come sempre, con la zuppa ogni mattina. Ciao!